Voglio ringraziare oggi, 25 marzo, il sindaco Giusy Nicolini e tutte le donne e gli uomini di Lampedusa. Dico oggi 25 marzo perché il 25 marzo è il compleanno dell'Europa. Si festeggia anche il 9 maggio per altri motivi, ma la firma istitutiva dei trattati della Comunità Europea è stata fatta il 25 marzo del 57 a Roma. E noi oggi, in questo giorno, che è un giorno di ricorrenza importante per l'Europa, siamo nel centro dell'Europa, siamo nel cuore dell'Europa. Forse non è un cuore geografico, forse è un cuore più spirituale, se volete, ma è sicuramente il punto in cui alcuni cittadini europei hanno mostrato a tutti gli altri quello che va fatto. Con grandi valori umanitari, con grandi valori civili, con grande spirito di servizio. E siamo qui oggi per dirlo in un giorno in cui non c'è un'emergenza. Perché la seconda cosa che vogliamo dirvi è che Lampedusa, e vi saremo grati se ci aiutate a raccontare la realtà, è anche, e direi soprattutto, un'isola bellissima. Bellissima.